Prima giorno di scuola io sono sempre in ritardo, mi preparo i vestiti la sera prima, vado a letto presto, mi sveglio tardi e arrivo in ritardo. Vorrei che leggessi ad altavoce i miei voti. Distinto, ottimo, distinto, 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 ottimo. Cosa sono? Non hai mai avuto un ciuccio nella tua vita? Un ciuccio? Questo è un must, must have proprio. Ho mai visto in vita. Sì, sono dei ciuccetti, sì, sì. Ma hanno qualche utilità o è solo... È la collezione che rappresenta la mia adolescente. Io, io sono quasi indignata, ma cioè veramente ti fai le unghie? Se no me le mangio allora le ho porto sempre a scuola. Non si sa mai, quindi zan zan zan, sviolinata, astuccio, sailor moon. I timbrini. Ne vuoi uno? No, grazie. Li proviamo? Le vado di... cos'è? Dinosauro? Tartaruga. Non si vede niente, però... Com'è possibile che, se si chiamano evidenziatori, vuol dire che devono evidenziare le cose importanti flu? Cos'è questo rosino, lillino? Più carino da vedere. Borraccia. L'altro pesantissima, posso dirlo. È un must have a scuola da me. Ah, voi siete tipo ecosostenibili. Che cos'è? Eh. Segna un orario. È un tamagoji? Un tamagoji cos'è? Allora, praticamente tu facevi crescere questo pulcino. Ti diceva l'ora, lo facevi crescere, gli davi da mangiare. Di base non lo dovevi far morire, quindi questo ti responsabilizzava. C'è un'app simile. Questo che cos'è? Questo che cos'è. Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi. Questo è il cellulare. Cioè, tutti noi avevamo il Nokia 3310. Un sirom. Indistruttibile. Ecco, infatti. Con cover cambiabile. Cioè, qui non c'è WhatsApp, non c'è Instagram, non c'è niente. Ma tu sai scrivere un messaggio con questo cellulare? Eh, volevo chiedere, come fai a mandare messaggi da qua? Cioè, io non riuscirei neanche a scrivere, ci metterei anni. Eh sì, poi aveva i testini, cioè, vedi che... No, è impossibile. Tipo l'otto, lo clicchi tre volte per fare la V. Messaggi vocali? No. Ma tu, con l'iPhone, come fai a far gli squilli? Eh, cosa sono gli squilli? Fai suonare per mezzo minuto circa il cellulare della persona che ti piace e poi chiudi, riagganci prima che lui risponda. No, non faccio se cosa mi vergogno. E questo? Eh beh, questo lo so che sembra un oggetto ritorno al futuro. Esatto. Una roba strana, eppure aveva un'utilità. Ah, è un lettore? Eh sì, un lettore CD. Allora, il cellulare era una cosa, la musica si ascoltava con un altro... Ah, con questo? Un altro ornese che era questo qua, che poi è diventato l'iPod dopo. Però il primo era questo. E prima ancora c'era il Walkman per le cassette. iPod? Sì. No, una volta. Me l'ha dato mio padre, ma c'erano dentro le sue canzoni e non l'ho neanche toccato. Dovevi scaricarti le canzoni. Me l'hanno regalate, ma non le uso. Poi se non ce le hai sei un po' sfigato, c'hai le cucchiai normali. What? Tu potevi fare delle compilation in cui andavi avanti, andavi indietro, così. Ma quelle cose tipo da film americano che un ragazzo ti dedica alla compilation di canzoni. Sì, sì. Questa è la pagella di quinta elementare. Da me era l'incubo di gennaio portare questa cosa a far firmare i miei genitori. Che ovviamente soprattutto al liceo avevo la maggior parte sotto che poi recuperavo tutto, ovviamente. Io avevo tutti distinto, ero molto brava. Facevo casino, però ero brava. Immagino che ora anche le pagiole siano telematiche, iCloud. Sono su registro elettronico. Ti metti così le immagini, ti vedi, voti, Matrix, tutti riuscivano così. E invece le tue consegna dei genitori. Cioè dove la falsifichi, la firma? Noi avevamo il libretto delle giustificazioni. Sava Sandir, la firma era sempre copiata. Di qualcun altro. Noi eravamo dei falsari incredibili. C'era anche quello che era un livello superiore, che sapevo anche copiare le firme degli altri genitori. Ah beh certo, immagino. Da quest'anno in realtà ho un registro elettronico. Anche quando vogliamo, non so, non andare a scuola un giorno, non puoi perché ti compare subito Sofia Cigolini assente. No, un incubo. Questo è un incubo. E quindi mia mamma che ha la notifica sul computer o sul cellulare lo vede subito se sono assente. No, ma che no. La girella, la girella. Ricreazione. Biscotti. Ah, biscotti bio integrali. Buona, sana. L'unico problema di questo è che si squagliavano. Esatto. Vero? Si squagliavano e si schiacciavano. Esatto, la famosa merendina schiacciata. Quindi deve mangiarla così. Durante l'anno cerco di non sgarrare, soprattutto con le merendine. Se abbiamo visto i tuoi biscotti dietetici di segale, non lo so. Quindi cerco di un po' di merendine, ma non mi piacciono. Tutte le cose confizionate. Eh, il gigante. Erano così i vostri libri? Allora, questa è l'enciclopedia, che valeva un po' per tutto, no? Perché adesso magari c'è Wikipedia. Sì, esatto. Cioè, noi non lo usiamo l'enciclopedia. E' pesantissima da morire. Enciclopedia, vocabolario. Che però aveva comunque un doppio utilizzo, che era anche quello durante le verifiche. Non nascondere. Bigliettino. Quello sì, quello sì. Belli questi. Normali. A righe. No, ma queste righe qua. Pazzesche. Selezionavi le materie, tipo il rosso era matematica, il rosso italiano, l'arancione, storia. Questa era la logica mentale. Anch'io, ma l'elementario è anche questa. L'annuario. L'annuario, momento più atteso dell'anno. Ma c'è tutt'ora? Praticamente il diario diventava una sorta di, non so, di archivio, di foto, dediche. E quindi poi si conservava il diario. Sì. Quando volevi essere un po' più profonda, anche tipo un giorno senza un sorriso, un giorno perso. Sono qua. Sei questa? Sì. Con un cappello di timone in testa, quindi non so se... Qui sei qui. Io, Marty, mi porto a casa il tuo diario. No! Mi sembra la cosa più... Mi sembra la cosa più giusta da fare. Io scelgo il buon, caro e vecchio quaderno. Io lo so. Lo so, lo so. Anch'io lo so. Io mi tengo... Buon ragione. Questo. Ah, brava. Questo perché è proprio Vintage. Ottima scelta, sì. Io sono andata più sul pratico, che mi vedo già al lavoro con questo. Tra l'altro questo secondo me funziona ancora, nel senso che se ci metto un cd dei miei tempi, inserisco le cuffiette. Io prendo il tuo telefonino. Bene. Modello? Eh, boh. Assuccio. Assuccio. Vecchio assuccio. Sera so che cosa fare. Dovevi portarlo rigorosamente, allentato fin qua. Scelta discutibile, però. Se ti è piaciuto questo video, commenta, condividi e iscriviti al canale. Qui potrai trovare gli altri episodi della serie e tanti altri contenuti.